di dino buzzati appuntamento con einstein voce di lorenzo pieri in un tardo pomeriggio dell'ottobre scorso albert einstein dopo una giornata di lavoro passeggiava per i viali di princeton e quel giorno era solo quando gli capitò una cosa straordinaria a un tratto e senza nessuna speciale ragione il pensiero correndo qua e là come un cane libero dal guinzaglio egli concepì quello che per l'intera vita aveva sperato inutilmente dun subito einstein vide intorno a sé lo spazio cosiddetto curvo e lo poteva rimirare per diritto e per rovescio come voi questo volume dicono di solito che la nostra mente non riuscirà mai a concepire la curvatura dello spazio lunghezza larghezza spessore e in più una quarta dimensione misteriosa di cui l'esistenza è dimostrata ma è proibita al genere umano come una muraglia che ci chiude e l'uomo dirittamente volando a cavallo della sua mente mai sazia sale sale e ci sbatte contro né pitagora né platone né dante se oggi fossero ancora al mondo neppure loro riuscirebbero a passare la verità essendo più grande di noi altri invece dicono che sia possibile dopo anni e anni di applicazione con uno sforzo gigantesco del cervello qualche scienziato solitario mentre intorno il mondo smaniava mentre fumavano i treni e gli alti forni o milioni crepavano in guerra o nel crepuscolo dei parchi cittadini gli innamorati si baciavano la bocca qualche scienziato con eroica prestazione mentale tale almeno è la leggenda arrivò a scorgere magari per pochi istanti solo come se si fosse sporto sopra un abisso e poi subito lo avessero tirato indietro a vedere e contemplare lo spazio curvo sublimità ineffabile della creazione ma il fenomeno avveniva nel silenzio e non ci furono feste al temerario non fanfare interviste medaglie di benemerenza perché era un trionfo assolutamente personale e lui poteva dire ho concepito lo spazio curvo però non aveva documenti fotografie o altro per dimostrare che era vero quando però questi momenti arrivano e quasi da una sottile feritoia il pensiero con una suprema rincorsa passa di là nell'universo a noi proibito e ciò che prima era formula inerte nata e cresciuta al di fuori di noi diventa la nostra stessa vita o allora di colpo si sciolgono i nostri tridimensionali affanni e ci si sente potenza dell'uomo immersi e sospesi in qualche cosa di molto simile all'eterno tutto questo ebbe il professor albert einstein in una sera di ottobre bellissima mentre il cielo pareva di cristallo qua e là cominciavano a risplendere gareggiando col pianeta venere i globi dell'illuminazione elettrica e il cuore questo strano muscolo godeva della benevolenza di dio e benché egli fosse un uomo saggio che non si preoccupava della gloria tuttavia in quei momenti si considerò fuori del gregge come un miserabile tra i miserabili che si accorge di avere le tasche piene d'oro il sentimento dell'orgoglio si impadronì quindi di lui ma proprio allora quasi a punizione con la stessa rapidità con cui era venuta quella misteriosa verità disparve contemporaneamente einstein si accorse di trovarsi in un posto mai prima veduto egli camminava cioè in un lungo viale costeggiato tutto da siepi senza case né ville né baracche c'era soltanto una colonnetta di benzina a strisce gialle e nere sormontata dalla testa di vetro accesa e vicino su un panchetto di legno un negro in attesa dei clienti costui portava un paio di calzoni grembiale e in testa un berretto rosso da baseball einstein lo aveva appena sorpassato che il negro si alzò fece alcuni passi verso di lui e signore disse così in piedi risultava altissimo più bello che brutto di fattezze africane formidabile e nella vastità azzurra del vespero il suo sorriso bianco risplendeva signore disse il negro avete fuoco e mostrava un mozzicone di sigaretta non fumo rispose einstein fermandosi più che altro per la meraviglia il negro allora e non mi pagate da bere era alto giovane selvaggio einstein cercò in vano nelle tasche non so con me non ho niente non ho l'abitudine spiacente proprio e fece per andare grazie lo stesso disse il negro ma scusate che cosa vuoi ancora fece einstein ho bisogno di voi sono qui apposta bisogno di me ma che cosa il negro disse ho bisogno di voi per una cosa segreta e non la dirò che nell'orecchio i suoi denti biancheggiavano più che mai perché intanto si era fatto buio poi si chinò all'orecchio dell'altro sono il diavolo iblis mormorò sono l'angelo della morte e devo prendere la tua anima einstein arretrò di un passo ho l'impressione la voce si era fatta dura ho l'impressione che tu abbia bevuto troppo sono l'angelo della morte ripete il negro guarda si avvicinò alla siepe ne strappò un ramo e in pochi istanti le foglie cambiarono colore si accartocciarono poi divennero grigie il negro ci soffiò sopra e tutto foglie rametti e gambo volò via in una polvere minuta einstein chinò il capo accidenti ci siamo allora ma proprio qui stasera sulla strada questo è l'incarico che ho avuto einstein si guardò intorno ma non c'era anima viva il viale i lampioni accesi e laggiù in fondo all'incrocio luci di automobili guardò anche il cielo il quale era limpido con tutte le sue stelle a posto venere proprio allora tramontava einstein disse senti dammi tempo un mese proprio adesso sei venuto che sto per terminare un mio lavoro non ti chiedo che un mese ciò che tu vuoi scoprire fece il negro lo saprai subito di là basta che tu mi segua non non è lo stesso che conta ciò che sapremo di là senza fatica è un lavoro di notevole interesse il mio ci fatico da trent'anni e ormai mi manca poco il negro sogghignò un mese hai detto ma fra un mese non cercare di nasconderti anche se ti trasferissi nella miniera più profonda la io ti saprò subito trovare einstein voleva ancora fargli una domanda ma l'altro si era dileguato un mese è lungo se si aspetta la persona amata è molto breve se chi deve giungere è il messaggero della morte più corto di un respiro passò l'intero mese e di sera riuscito a restare solo einstein si portò sul luogo convenuto c'era la colonnetta di benzina e c'era la panca con il negro solo che adesso sopra la tuta aveva un vecchio cappotto militare faceva freddo infatti sono qui disse einstein toccandogli una spalla con la mano e quel lavoro terminato non è finito disse lo scienziato mestamente lasciami ancora un mese mi basta giuro stavolta sono sicuro di riuscire credimi ci ho dato dentro giorno e notte ma non ho fatto in tempo però mi manca poco il negro senza voltarsi alzò le spalle tutti uguali voi uomini non siete mai contenti vi inginocchiate per avere una proroga e poi c'è sempre qualche pretesto buono ma è una cosa difficile quella a cui lavoro mai nessuno conosco conosco fece l'angelo della morte stai cercando la chiave dell'universo vero tacquero c'era nebbia notte già da inverno disagio voglia di restare in casa e allora chiese einstein allora va ma un mese passa presto passò sveltissimo mai quattro settimane furono divorate con tanta avidità dal tempo e soffiò un vento gelido quella sera di dicembre facendo scricchiolare sull'asfalto le ultime raminghe foglie all'aria tremolava di sotto al basco la bianca criniera del sapiente c'era sempre la colonnetta di benzina e accanto c'era il negro con un passamontagna in testa accoccolato come se dormisse einstein gli si fece vicino timidamente gli toccò una spalla eccomi qui il negro si stringeva nel cappotto batteva i denti per il freddo sei tu sì sono io finito allora sì grazie a dio finito terminato il grande match hai trovato quello che cercavi hai schiodato l'universo einstein tossicchiò sì disse scherzosamente in un certo modo l'universo adesso è in ordine allora vieni sei ben disposto al viaggio certo questo era nei patti d'un botto il negro balzò in piedi e fece una risata classica da negro poi diede con l'indice teso della destra un colpo sullo stomaco di einstein che quasi perse l'equilibrio va va vecchia canaglia torna a casa e corri se non vuoi prenderti una congestione polmonare di te per ora non me ne importa niente mi lasci e allora perché tutte quelle storie importava che tu finissi il tuo lavoro nient'altro e ci sono riuscito dio sa se non ti mettevo quella paura addosso quanto l'avresti tirata ancora in lungo il mio lavoro e che te ne importava il negro rise a me niente ma sono i capi laggiù i demoni grossi dicono che già le tue prime scoperte gli erano state di estrema utilità tu non ne hai colpa ma è così ti piaccia o no caro professore l'inferno se ne è giovato molto ora fa assegnamento sulle nuove sciocchezze disse irritato einstein che vuoi trovare al mondo di più innocente piccole formulette sono pure astrazioni inoffensive disinteressate e bravo gridò iblis dandogli un altro botto con il dito nel mezzo dello stomaco e bravo così mi avrebbero spedito per niente si sarebbero sbagliati secondo te no no tu hai lavorato bene i miei laggiù saranno soddisfatti oh se tu sapessi se io sapessi cosa ma l'altro era svanito né si vedeva più la colonnetta di benzina neppure lo sgabello solo la notte e il vento e lontano laggiù un andirivieni di automobili a princeton new jersey